Salve a tutti amici sono Peppe GioGamers e siamo su Minecraft Allora ragazzi, siamo su Minecraft, sì Due mille ci fissano comunque, se niente fosse Se ti levi dalla mia cassa forse E riesco a fare qualcosa Allora ragazzi, alcuni di noi si sono fatti un paio di risate Quando per esempio do i nomi agli animali Oppure per esempio, che vi devo dire, oppure quando Beh, devo far ridere ragazzi Quindi continuiamo la nostra avventura su Minecraft Continuiamo la nostra avventura Possiamo fare più un cavolo qui Ci dai lo stesso di legno Levati, levati Ci rinunciamo una bellissima cassetta Della posta Ci la mettiamo qua Allora Mettiamo tutto nella nostra cassa della posta Ci portiamo questo 33 Ci portiamo Due bei piccolazzi E ci portiamo Un po' di ciotolazzo Qua Va bene, possiamo partire Allora ragazzi Io ho partito i video a 13 Fatemi un attimo fare un bellissimo calcolo Ok Incominciamo la sua quarta d'ora di video Allora Noi l'ultima volta eravamo rimasti qua Vi avevo detto di continuare a scavare per questa parte Infatti guardate qui Uh Chi sei, chi sei, dove sei, dove ti trovi Ci stai dando già fastidio Ecco Ce l'abbiamo fatto Adesso è sicuro raga Non ci darà più fastidio Uh Tu, 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 tu Guardate lì Guardate lì Guardate lì Guardate lì Guardate lì Che cavolo Cioè è bellissimo Cioè è bellissimo raga Bellissimo Bellissimo Quanto ferro Quanto ferro Rorororor Iron Quanto iron Iron Man Bellissimo Aspettate un attimo Vorrei fare un attimo una cosa Guardate qua Che faccio Aspettate Se ci arrivo Ci arrivo una cosa qua No No non ci arrivo Perché volevo fare un attimo Una cosa E questo sono Mi sta leggermente Scassando le palle Ah Ah Andate così Uh Raga Per un po' Cadevo qua sotto Cioè Mi schiacciavo le palle Mi schiacciavo tutto Non direi di scavare qui Allora Continuiamo un po' A prendere ferro Non mi sparare Ah Basta Basta Ah Qui dietro Oh se mi sparasse Qua dovrebbe Tenere la mia Da pro Questo Oh come cazzo Ho fatto Vedete Pro Oh Cazzo Ho fatto Raga Sto facendo No Per poco Attenzione Cioè Cioè io Cioè io Cioè io Cotevo qua Mi spiegarci Cava a terra Credo Cioè no Non morivo Però Più o meno Ci siamo alla morte Di scavare un po' Di scavare un po' di ferro Qui Di prendere un po' Di pietruzzola E di metterla Giusto Qua Pa E pa E noi Ci prendiamo Quest'altro Ferrazzolo Noi ce lo prendiamo E Sti cazzi Oh Via Attenzione Cioè Cioè che cazzo faccio Cioè Attenzione Scaviamo Velocissimo Come il ventino E Ci prendiamo Undici Ci facciamo Una bella scalinata Verso giù Attenzione Lì non ci possiamo arrivare Allora facciamo un po' Pa Pa Attenzione Che abbiamo sbagliato Pa E pa E pa Attenzione Volevo di qua Ta Ta Vabbè ragazzi Facciamo bene a fare in questo modo Guarda Cioè Facciamo bene a fare così Rompiamo Qua Facciamo così Ta Ah ecco L'abbiamo fatto la scala Poi è andato mai Facciamo Pa 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 Ma vaffan Cioè proprio perché mi sono scordato di mangiare Sono deficiente Beh noi con Non c'è un cazzo Possiamo risalire Ma allora Qui non ci sto capendo un cavolo proprio Allora saliamo No No qui Saliamo qui Dobbiamo qui Pa Dobbiamo tutto Allora Pa 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 Ce l'abbiamo fatta Allora Ma adesso Se Continuiamo Un attimo Oh Via 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 Attenzione 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 No 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 Attenzione No 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 Eccoli qua Ok uno spawner Uno spawner Uno spawner Uno spawner Uno spawner Sicuro uno spawner Ah una spada Una spada Via 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 Oh no le sento alti Uno spawner ve lo dico io Ve lo dico io Ve lo dico io Uno spawner E sono tutti amici Ve lo dico io Che ci sta un cavolo di spawner Di merda Infatti adesso io mi prendo Altro ferro Per così fare Del tipo di mura E altro ferro Altra Pietruzzola E lo sapevo che c'era Uno spawner Lo sapevo No non c'è un cozzo Dove cavolo prendo Aspettate eh Sento qualcosa qui Attenzione Attenzione Raga Attenzione Allora Qui c'è la terra Un buon segno che ci potrebbe essere Anche spawner Noi non ci scavano mai sotto Attenzione 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 Vabbè Vabbè Oh attenzione Mi sto scavando tutto Cavolo quante roba Cavolo quante roba Cavolo quante roba Cavolo quante c'è accaduto Qua Ma quante c'è accaduto Cavolo 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 Non mi scordo Di me la pala Dove cavolo Cazzo Anche qui sotto Avvenuto Questa spazio Ce non c'è niente Vedo zoom Scheletri Di roba Vale Io non chiedo Di me Non mi è giunto Quei niente Ah È attuale Un po' Più veloce Io c'è Più Un po' Una pala attenzione 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 e siamo tornati dove eravamo prima lasciamo un segnetto così ci torneremo allora la che cazzo sta combinando sto cosa non ballare è uscito questo corpo è uscito è uscito da questo ragazzi spero che il videozzo di oggi vi sia piaciutamente piaciuto lasciate un bellissimo like se lo volete lasciare condividete il videozzo commentate e vi prego ragazzi iscrivetevi per portare avanti il canalozzo il nostro canale e da pepe giochipers è tutto per questo video al prossimo video